Come era prevedibile dunque, la notizia del finanziamento regionale di 80.000 euro previsto dalla tabella H per la Fondazione Carnevale di Acireale ha riaperto a sciacca l'antico dibattito sull'assenza in città di un ente carnevale capace di intercettare fondi da destinare all'organizzazione della festa che da anni ormai è quasi interamente a carico del Comune, ancorché di recente, come avvenuto in occasione della passata edizione, siano stati utilizzati esclusivamente gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno. Ad intervenire oggi è Stefano Scaduto, a capo dell'Associazione Popolari per Sciacca, per il quale la mancanza della Fondazione Carnevale per la cui istituzione a suo dire non si sono spese né l'attuale né le precedenti amministrazioni comunali, altro non è che l'ennesima occasione persa per la città per gestire meglio la manifestazione e ottenere maggiori finanziamenti da parte della Regione. E non è d'accordo Stefano Scaduto con quanto dichiarato ieri dall'assessore al turismo Salvatore Monte a proposito dei notevoli costi che comporterebbe la costituzione di una fondazione carnevale di Sciacca. Alla luce dello statuto della fondazione carnevale di Acireale, riferisce Scaduto, sia il presidente dell'ente sia i componenti del consiglio d'amministrazione non sono retribuiti, ma hanno solo diritto ad un rimborso spese. Ed ancora, sottolinea il presidente dei popolari per Sciacca in riferimento al funzionamento della fondazione carnevale di Acireale, gli unici a ricevere un compenso sono i revisori dei conti e il direttore artistico, la cui nomina in ogni caso non è obbligatoria per statuto e può anche non essere nominato. Sciacca tra l'altro può fare a meno del direttore artistico alla luce delle note capacità di direzione artistica dello stesso assessore Monte in persona, osserva ancora Stefano Scaduto, per il quale l'affermazione dell'esponente dell'aggiunta di Paola, secondo cui la fondazione avrebbe comportato un aumento dei costi, è una giustificazione che non regge. La verità, conclude l'Associazione Popolari per Sciacca, è che la mancata costituzione dell'ente da parte dell'attuale e delle precedenti amministrazioni rappresenta l'ennesima occasione persa per gestire meglio la festa e ottenere maggiori finanziamenti da parte della regione, di cui invece beneficerà il carnevale di Acireale, dove amministratori più attenti e lungimiranti hanno istituito la fondazione già da lontano 2004.